Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su The Walking Dead The Final Season e a Jay mi sta spaventando veramente tanto. No. The wrong lessons, says you. I never taught you to find joy in killing. AJ, you can't really believe that. Please, think about what you're saying. Stay out of this or I swear I'll claw your fucking eyes out. If you are listening, anyone that wants to hurt us should be dead and I'm not sorry about it and I'm not gonna feel bad about it. Beh, questo non è sbagliato effettivamente. AJ, you said you didn't teach me this when you did. You always said surviving was the most important thing. Be strong, be brave. If something wants to hurt us shoot it right in the head. I'm not sure about it. I'm not sure about it. I can't listen to this. Do you think you can change it? Do it then. Talk to him. I'm not sure about it. I'm not gonna stop, Clint. I'm not gonna let people that want to hurt us just... Walk around. You can't tell me to stop and expect me to get it. You can't tell me to stop when you know it just confuses me. I know this world is hard. For us, for you especially. And killing it's almost unavoidable these days. Having to do it, having to let you do it. We've learned we have to live with it. But you can't ever like it. I don't know if I should have said I liked it. Maybe I don't know the right words for what I've known. Aren't you glad Lily's dead? You just said she deserved it. You must be glad I killed it. It's... it's complicated. Because... 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 Because why? Because why? And I asked you to shoot her, she was a threat. And yes, I'm glad that threat's gone, but... That's what I've been saying! You kept going when she was down. You kept going even when you knew it was too far. That's different. You weren't happy with firing that gun. You were angry. Angrier than I've ever seen. I need you to hear me. You can't talk like this about killing anyone. Even Lily. I've heard enough. It's obvious that you can't teach them. Come gro poster and do external movement. For um... Thank god... I can't tell you. Thank God. To this guy, for a safe flight. From yours, I want you to see it. Siamo te senti, tu non capisci chi siamo. Mi capisco, ho visto il vostro tipo, il mondo è pieno di te! Io ti prendo! Alla che ti faccio è violenza, morte! Puoi vivere una vita tranquillamente, ma... Ma è come che non ti lascia! Non funziona! No! Non puoi pensare che tutti la vedano così! Anche perché hai sbagliato! Non puoi parlare le persone in essere tranquillamente! Hai pensi che io non voglio una vita così per AJ, per me stesso? Dio, io vorrei vivere in un mondo dove non ho bisogno di sbagliare o matare o matare! Ma non è proprio come funziona le cose! Non ancora! E ciò che stai facendo adesso non va cambiare questo! Non farti uccidere, ti prego, non voglio ucciderti! Ti prego! Calmo! Per favore! Non voglio ucciderti! Talmente! Talmente! Chet c'è? Talmente! Che c'è? Non lo sapevo! Non lo sapevo! Non lo sapevo! Non lo sapevo! Ha passato troppo tempo tra gli zombie per quanto mi riguarda quanti sono i... Si è affezionato agli zombie, questo è il problema Non mettetemi un timer Ok, allora Ragazzi, lo so, è un bambino Non è Clementine Lui si sta comportando in modo diverso da come si comportava Clementine alla sua età O poco più grande di lui comunque Però quello che ha detto Lasciate stare che è un bambino Ma quello che ha detto è sacrosanta verità Cioè lui ha detto a me è piaciuto uccidere Lily Non uccidere in generale A me è piaciuto uccidere Lily Perché era cattiva, perché ci minacciava Per quello che ha fatto a Luis, per quello che ha fatto a tutti quanti Era giusto ucciderla E non mi sentirò in colpa perché l'ho uccisa Anch'io sono contenta che Lily sia morta Perché era un pericolo Se è questo che intendeva lui Ha ragione Io mi fiderei di lui Noi stessi abbiamo ucciso Kenny per salvare Jane Cioè nel senso abbiamo ucciso anche persone che conoscevamo Che sapevamo che erano pericolose Per salvare altre persone in pericolo Cioè abbiamo fatto scelte difficili È un bambino L'unico problema è che è un bambino Ma sembra Corretto quello che dice A me sembra corretto Io mi fido Non farmene pentire bimbo Bravo Sempre serio devi essere Ok Non farmene pentire bimbo Vedete fosse stato un ragazzino come te Con il cacchio che gli dicevo che mi fidavo di lui Ok Mi dispiace, avrei voluto veramente portarmelo Perché James mi piace come personaggio Ve l'ho sempre detto Ha delle idee del cavolo estremamente sbagliate Però è uno fico Cioè va in giro in mezzo agli zombie e li comanda È uno cacchio fico Porca miseria Però è troppo semplicistica la sua idea Cioè non puoi dirmi non devi uccidere nessuno Non è così Quando, cioè non me le vado a cercare Ma quando mi piovono addosso delle minacce come Lily e il suo gruppo Mi devo difendere Per difendermi e salvare i miei amici devo uccidere È inutile È così Ho rafforzato la fiducia in a Jay Io spero che Cioè rafforzare la fiducia in se stessi è positivo generalmente Cioè rafforzare la fiducia in se stessi è positivo Tutti quanti ci volevano fuori a Jay Tutti quanti A parte loro due io credevo Invece c'era anche Asim Ma Asim è uno pratico Ve l'ho detto Asim è un intelligente Porca miseria Davvero lo pensi? Beh in realtà ci siamo protetti un po' a vicenda Perché io devo la vita a un sacco di loro Già Tipo io sono ancora in debito con Violet Perché ancora una volta ha sparato la sua ragazza Per salvare la mia vita Quindi sono ancora in debito con lei Ok 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 Non lo dire Non lo dire mai Che cacchio hai appena tirato la sfiga divina su di noi Porca miseria Violet Porca miseria Comunque aveva ragione a dire che questo ragazzino pensa un sacco È la verità Che c'è Che c'è? Stavamo cercando voi e io Pensavo che potessi essere Vincita per bene Esternare emozioni La cosa che sai fare meglio Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Quindi vuoi merito?' Che c'è? Che c'è? Che c'è? Yani Quindi vuoi morire? Mi stai dicendo questo? Non te ne frega più niente? La fantasia non è il tuo forte, effettivamente. Eh no, dai, devo, devo, lì l'ho trovata, porca miseria, devo. Eh, come Xena, perfetto. E dove ti ha trovato lì? Solo senza Marlon. Sì, e soprattutto ci vorrebbe qualcuno che se ne intende un pochino di architettura o vi crolla tutto in testa, io vi avviso. Va bene. Ma Erickson era il preside, quindi era la scuola dedicata al preside? Raggiù di sole anche no, magari. Scegli il tubo, ma tutto è schifo, stai scelta. Come dicevamo, la fantasia? Ma povera, dai, se vuole chiamarlo così, lascialo così. Ok, stai scelta, stai scelta, stai scelta. Io voglio aiutare a creare la scuola. Ci saranno, Ten. Siamo tutti stai scelta. Ci possiamo cominciare a scegliere e quando riusciamo. Siamo tornati a casa, anche in Texas. perfetto perché percepisco dell'inquietudine nell'aria, porca miseria ah, cosa c'è là dietro non voglio attraversare questo ponte possiamo stare qui per il resto della nostra vita dai, qui ci guardiamo negli occhi non posso neanche girarmi, devo andare avanti per forza porca miseria perché non posso passare il resto della mia vita all'ingresso del ponte, non va bene uguale stiamo lì e aspettiamo la vecchiaia no eppalala ovviamente è rotto perché vorrei mica avere un ponte completo giustamente c'è un bucone e io dovrò saltare ti prego Clementine, non cadere di sotto ti prego Clementine Clementine per favore cazzo cascherò di sotto e morirò così, vero? sicuro, guarda guarda sicuro no, io non ce la farò, vero? no, io non ce la farò, vero? no, ten no, sta portando gli zombie, maledetta come? bravo, ten, vieni via sì, 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 sono finalmente ando a un momento meglio voglio tu qui con me tu sei tutta pazza tutti potrebbero essere una persona ancora? ehi, ehi, ehi siamo andati con la mamma e il papà e la Sophie Ten, guarda mi so che sembra lei ma tua sister è andata Da più di un anno, Ten? Cacchio Eh, va bene, Ten, che cacchio Deficiente Cioè, ti sta sparando addosso, porca miseria Cretino Gli sta sparando addosso Lui sta andando verso di lei, cioè Veramente? Che devo fare? Eh, non l'ho neanche preso, guarda Porca, porca Porca miseria, porca Non era lì Mi sembrava di averla vista lì, invece no Non la vedo in mezzo agli zombie Anche perché sto sparando agli zombie, potenzialmente Cacchio, l'ho vista, ma Porca miseria, se non riesco a... Eccola Porca miseria Non riesco a sparare lei E niente Sto zombie qua non ucciderò mai, vero? Porca vacca, se ti ho preso E beh, io l'ho fatto con i proiettili delle pistole Mi pare ovvio Ten, porca miseria, dai Ma do, Minerva, se mi fai mordere Dovevi sparare a lei, dannazione Se mi fai mordere, Minerva Porca vacca, se mi fai mordere Dai, Clem, dai Porca miseria Spara Che schifo No Non fammi sparare in testa, porca vacca Non andare Basta, basta Lasciamolo qui Lasciamolo qui Basta No, Violet Lascialo qui Violet Porca miseria Ragazzi, Clementine No, no, no Lascialo lì Non ci viene, ok? Lascialo cacchio lì Spara, Jay Non a loro Non a loro Ah, Jay No Buoni, buoni Non odiatemi Questi si chiamano cliffhanger Sono belli da inserire nei video Non trovate anche voi? Come sempre vi ricordo di lasciare un commento Possibilmente senza insulti Un like E di iscrivervi al canale Se non l'avete già fatto Vi auguro una buona giornata Un saluto a tutti E di iscrivervi al canale Un saluto a tutti E di iscrivervi al canale Grazie.